Siamo con l'avvocato Giuseppe Belcastro che è già la seconda edizione di questo premio, quindi quasi un nostro testimonia, l'anzi è lui il vincitore del miglior salotto dell'edizione 2018. Che cosa significa, avvocato Belcastro, definirsi un Christmas boy? Diciamo mia moglie che lì lo sa bene. Significa semplicemente sentire l'atmosfera natalizia, a prescindere dalle credenze religiose, significa avvertire e percepire qualcosa che è nell'aria, significa sostanzialmente godere questo momento con una intensità che sembrerebbe lontana dall'età che ognuno si porta dietro. E' un po' tornare ragazzini, tornare bambini e vivere questo periodo con la gioia in fondo inconsapevole, senza nemmeno capire esattamente per quale motivo, questo almeno per me. Senta, avvocato Belcastro, lei è da poco stato eletto a componente consigliere della Camera Penale di Roma. È più facile credere alla giustizia o alla magia del Natale? Alla magia del Natale sicuramente. No, è una domanda provocatoria. Diciamo che tutte e due presentano una buona dose di difficoltà. Una è una difficoltà, come dire, emozionale, l'altra è una difficoltà operativa. In questi periodi, diciamo, quella difficoltà operativa di credere nella giustizia, diciamo, è elevata. Tuttavia, chi come me opera in questo settore, specialmente con la responsabilità di, come dire, di un'associazione come la Camera Penale, poi della Camera Penale di Roma, ha il dovere di credere nella giustizia e di lavorare perché la giustizia raggiunga gli obiettivi che le sono propri. Senta, che ne pensa di questo modo di fare counseling giuridico, di fare cultura della legalità attraverso i salotti letterari, visto che lei ha partecipato a tanti altri e parteciperà ancora? Tra l'altro è anche un nostro elettore, quindi fa parte del collegio di chi vota il libro vincitore. Credo che sia il modo migliore di diffondere la cultura della legalità. La cultura della legalità non si diffonde con il processo. Il processo penale è, come dire, la clinica, è qualcosa che interviene quando il reato è stato commesso o comunque bisogna accertare se il reato sia stato commesso. È quello che, potremmo dire, la fase patologica del diritto. Diffondere la cultura della legalità, invece, significa intanto diffondere cultura in termini generali e poi spiegare e stimolare le riflessioni attraverso salotti letterari come questo, attraverso ragionamenti, attraverso gli interventi nelle scuole. Per esempio, la nostra Camera Penale sostiene fortemente il progetto dell'Osservatorio dell'Unione delle Camere Penali con il MIUR, attraverso il quale diffondiamo nelle scuole secondarie di secondo livello la cultura della legalità, cerchiamo di fornire degli elementi, delle nozioni e delle informazioni che gli studenti altrimenti purtroppo non hanno. Quindi dico che questo è il miglior sistema. Quello di diffondere cultura già di per sé significa diffondere cultura della legalità. Senta, la sua personale recensione per la collega Bonsignori, per questo libro scritto da un avvocato che ha come protagonista un avvocato. Come diceva, io sono un Christmas boy, quindi un libro così non poteva che piacermi. Lei ricorderà che fu io, non dico a propormi, ma insomma a segnalarle che un titolo così non poteva che incontrare i miei favori. È un libro che mi è piaciuto molto, che dice qualcosa in più di quello che non traspaia dalla semplice lettura e sul quale fra poco darò qualche indicazione un pochino più precisa. È un avvocato, anche qui è un avvocato che fa un pezzo di strada nelle pagine del libro e che parte con una dose di cinismo accentuata e arriva forse più Christmas boy di quanto non sia partito. Quindi buona lettura. Grazie a tutti.